Allora, in attesa dello spettacolo serale equestre, facciamo una carrellata dei street food, vedere un po' di banchi. Qui abbiamo un banco di arancine, panelle, respelle. Qua cosa abbiamo? Un banco di dolci, abbiamo babà, dolci di campagna, siciliani, cassate, per notte, più roba, cocktail. Qui invece abbiamo le osticini abruzzesi alla braccia. Vediamo se si intravedono un po', lo stanno preparando. Biro artigianale, al fianco cosa abbiamo? Parchetta di ariccio, un bel banco di parchetta di ariccia. Un po' qua, un po' i panini, un bacchetta. Abbiamo anche trip e fagioli, qua come dice cosa abbiamo? Un banco. L'acciughe fritte, patatine fritte, cartocce di acciughe, patatine fritte. Un bello stand di birra artigianale, paladin. Qui invece abbiamo un banco di hamburger, 100% fassone piemontese. Qui invece abbiamo lo gnocco, gnocco fritto. E infine un altro banco con panini in cenere. Hamburger, panini. Adesso la breve carrellata dello street food. E tra un po' dovrebbe iniziare lo spettacolo equestre. Duomo, umpuno, un po' dovrebki. Grazie a tutti.